Allora, faccio un saluto ai lettori di Smemoranda con grande piacere, perché anch'io da bambino avevo la mia agenda a scuola, quando andavo a scuola, proprio la Smemoranda, era proprio un'icona. E quindi pensare di aver partecipato adesso a questa intervista con voi e poterla condividere le cose con tutti voi, con tutti i lettori, con tutto il mondo Smemoranda, è un grande onore per me. Ciao a tutti! Siamo qui con Demetrio Albertini in occasione dell'uscita del suo libro Ti racconto i campioni del Milan. Cosa ti ha portato a scriverlo? Il pensiero prima di tutto di immaginare un genitore, magari milanista, che vuole raccontare quelle che sono state un po' le figure chiave, grandi campioni della storia del Milan, che io ho avuto l'onore per giocare insieme. Quindi raccontando al bambino, essendo un libro figurativo molto bello, con degli aneddoti anche retroscena fuori campo di calcio, e quindi con la possibilità di poter gioire insieme al proprio figlio, sperando che sia milanista anche lui di quei momenti. Ecco, proprio di questo rapporto tra padre e figlio c'è una dedica bellissima all'inizio di questo libro a tuo padre, e c'è una frase in particolare, secondo me molto significativa, che è questa. Mi ha sempre assecondato senza illudermi, ma aiutandomi a costruire la mia consapevolezza. Partendo da questa frase, vorrei chiederti quali sono i consigli da dare ad un giovane calciatore che vuole intraprendere questo percorso da professionista. Ah, pensavo il consiglio ai genitori prima di tutto. No, il consiglio è quello che proprio ho avuto anche da mio papà e da mia mamma, anche nello stesso tempo, era quello di assecondare il desiderio di un ragazzo che intraprende, in questo caso per me, il gioco del calcio, quindi lo sport del calcio, ma qualsiasi sport penso sia la cosa più importante, per poter metterlo nelle condizioni migliori di poter costruire il proprio futuro, che può essere anche solo quello di rimanere con i propri amici, godere dei momenti dello sport e della convivialità con i tuoi compagni, degli avversari, e poi successivamente, quello che posso raccontare io, di aver avuto la fortuna di aver valorizzato il mio talento. Questo è con il lavoro, essere riuscito a poter valorizzare quello. Quindi, prima di tutto, se devo pensare a un bambino, gli dico che è tanto bello sognare, perché io ho sognato tantissimo da bambino, quello di alzare una coppa, ma semplicemente di finire sulle figurine panini, no? E quindi il sogno mi ha permesso di poter, come ho detto, vivere al meglio quello che poi dopo è diventata una professione. Quello non è per tutti, io credo di averla da una parte avuto la fortuna e dall'altra parte essermela meritata sul campo. Ottimo. In questo libro vengono descritti 50 campioni. Come hai fatto questa selezione? Basandoti su cosa? Ma è molto difficile, perché 50 è veramente riduttivo. Nel senso che ne avrei voluto iscrivere molti, molto di più, perché credo che tutti abbiano contribuito alla storia di questo grande club. però lo spazio era quello, come li ho selezionati, quelli che sinceramente avevo da poter raccontare una storia del Milan, prima di tutto, secondo con quelli che ho avuto un rapporto un po' speciale, non perché altri che non ci sono non ho avuto il rapporto speciale, però, come ho detto, nel momento in cui cerchi di costruire un po' la storia del Milan, inserisci anche dei giocatori con cui non hai giocato, ma che hai avuto la possibilità di conoscere, per descrivere anche una fase della storia di questo club dove io non c'ero. Quindi mi sembrava giusto poter rendere il lettore partecipe anche di qualche giocatore, magari più vicino a loro, un po' meno a me, però che ho avuto a che fare per qualsiasi motivo. Hai già anticipato il fatto che 50 sono un po' pochi. Volevo chiederti se c'era stato qualche giocatore, magari non proprio sotto i riflettori, che ha contribuito a rendere grande il Milan. Quando fai il calciatore sei sempre sotto i riflettori, quindi sinceramente tutto è relativo, dire quali sono quali più sotto i riflettori. Sì, ce ne sono diversi, perché alla fine non sono riuscito a descrivere, diciamo, le geste dei giocatori come Ragno, come Gantz, come Panonava, che è stato il mio compagno di camera, per i miei clienti della mia carriera. Lentini, ma ce ne sono veramente tanti, 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 che hanno veramente segnato la storia del Milan, come ho detto in tutti quegli anni e negli anni successivi, descrivendo soprattutto una fase della storia del Milan vincente, è stato per tutti i suoi anni, però in questo lasso di tempo ho cercato di individuare quei giocatori a cui potevo dedicare una pagina, perché poi alla fine è una pagina con grande serenità, raccontando tutte le cose belle che ogni calciatore ha dato a questa squadra. Secondo te invece quali sono stati, passami un po' il termine, gli avversari che avrebbero potuto amalgamarsi con il Milan, sia per aspetti tecnici che caratteriali? Io penso che tanti, tanti, perché ho affrontato tanti, tanti campioni, che poi dopo alcuni sono anche arrivati nella squadra rossonera. Per quanto riguarda caratterialmente, io credo che lo descrivo bene anche nelle mie righe, nelle mie pagine che ho scritto, credo che tutto è contagioso, quindi anche qualcuno magari non in linea con la filosofia del Milan, poi dopo alla fine si è adeguata, perché quando entri in un gruppo, in qualsiasi gruppo lavorativo, comunque di amicizie, poi alla fine ci si adegua. E quindi quando parlo di valori che mi hanno segnato e mi hanno trasferito tutte le persone che hanno lavorato al Milan, che mi hanno visto crescere, alla fine credo che tanti calciatori avrebbero potuto essere in questa grandissima squadra. ce ne sono veramente tanti, ma partirei da quelli che mi hanno fatto più soffrire magari. Un Zidane della situazione che me lo trovavo sempre alle spalle, se avesse indossato la maglia rossonera non mi sarebbe dispiaciuto. Un Totti, Francesco Totti, che è un grandissimo calciatore, che è stato anzi un'icona del nostro calcio, poteva assolutamente essere tra quei giocatori che potevano segnare la storia del Milan. Stiamo parlando di giocatori che magari sono andati anche per ognuno per qualsiasi motivo, però sono andati molto vicini a essere acquistati dal Milan, o almeno un'interlocuzione. Io credo che in quegli anni lì tanti calciatori avrebbero voluto essere e giocare in quella squadra vincente. Hai fatto alcuni nomi, come può essere quello di Totti. Inoltre nel tuo libro fai riferimento comunque un po' ai calciatori come degli eroi, come degli idoli per i ragazzi. Secondo te oggi chi sono i giocatori, i calciatori che possono essere considerati un po' dei eroi e per quale motivo? Ma è cambiato tantissimo il mondo, non è cambiato tanto il calcio. La mediaticità di ogni calciatore adesso è diventata parte integrante della nostra società, quindi ci sono tanti calciatori che sono sicuramente giocatori che in questo momento potrebbero essere degli idoli, degli idoli un po' più trasversali forse, perché con i social diventi un po' non solo un idolo per la tua squadra, ma semplicemente un idolo di questo sport. Pensiamo anche solo come la televisione ha unito le distanze, pensiamo a giocatori inglesi, spagnoli che giocano il campionato spagnolo, giocatori che giocano il campionato tedesco. Quindi io credo che sono cambiate tante cose nella nostra società e quindi sono cambiati anche i parametri degli idoli dei giovani di oggi. Quindi che differenza c'è tra i parametri della tua età e invece quelli di oggi? Guarda, oggi si è spettacolarizzato un po' tutto, è aumentato la spettacolarità. Io quando ero bambino, quando cominciavo a giocare, era molto complicato vedere una partita di un campionato straniero. Oggi penso che tanti ragazzi vedano molto anche amanti del calcio, vedano molto anche partite di cartello di altri campionati. E quindi ci si avvicina molto di più, si accorciano queste distanze. E anche se non sei il tifoso del Barcellona per parlare di Messi, o non sei il tifoso di Lewandowski per parlare del campionato tedesco, o di Guardiola per parlare del campionato inglese, però sembrano ormai parte del nostro sistema calcio. Proprio perché la Champions League ha unito tutte queste figure che magari non sono propriamente i tuoi idoli della tua squadra del cuore. Però diventano idoli al di là della maglia. C'è una frase sempre all'interno del libro in cui tu affermi che il calcio e maestro di vita è un percorso che ti forma come atleta, ma anche come uomo. È ancora così, proprio riallacciandomi a questo tuo ultimo discorso sulla spettacolarità. È cambiato qualcosa in questo sport, quindi? Che sia maestro di vita lo è ancora adesso. Io credo che se devo raccontare o devo dare un consiglio a qualsiasi ragazzo, a partire dai miei figli, è di poter praticare sport agonistico. Qualsiasi sport perché ti aiuta ad affrontare gli esami della vita, che poi possono essere le partite, possono essere le gare, possono essere i match, di poter sognare e quindi di poter realizzarti in qualcosa che è per tutti. Anche perché lo sport insegna la meritocrazia. E la meritocrazia quando scende in campo vince poi chi si è preparato meglio o comunque chi è più l'aveva talento. E questo è, credo che ancora oggi, non lo disconosco anche se i tempi sono cambiati, è cambiato il modo di vivere, quello che è la popolarità. Oggi si vive molto sui social che hanno accorciato le distanze con i tifosi, però hanno tolto un po' di relazioni, di poesia, di quello di andare allo stadio per vedere il proprio idolo, giocare e magari competere contro gli avversari. Ormai si sa tutto di tutti, quindi con la velocità che diventi popolare oggi, però con la stessa velocità se non ti alleni, proprio per usare questa parola e terminologie nostre dello sport, se non ti alleni nel modo giusto poi la perdi anche velocemente. C'è stato un capitolo, o comunque parte del libro, che hai avuto difficoltà a scrivere a livello emotivo? Ho avuto difficoltà a scriverle alcuni capitoli perché erano troppo poche le pagine, perché trasferire le emozioni è molto difficile attraverso una scrittura, più facile scendere in campo e riuscire a gioire e a condividere con i propri compagni. Di certo le pagine, perché sono più di una della mia partita d'addio, è un po' la sintesi di questo libro. E quindi rivivere quel momento è stato realmente una cosa emotivamente per me molto bella, perché alla fine è una cosa bella, pur parlando di un addio, che sembra una cosa strana, però ho rivissuto quello che è stata la preparazione, ho rivissuto quello che era stare in campo, con rivedersi dopo tanto tempo con tanti campioni, avere l'onore di essere quella partita, il 3 d'union da un Milan vincente a un altro Milan, che è quello stato del 2006, stiamo parlando del 2006, che poi ha continuato a vincere. Io non ero più presente come calciatore, ma solo come tifoso. E poi vedere così tante persone allo stadio, in quell'occasione, che è sempre difficile, lo descrivo, che organizzare una partita d'addio in Italia non è mai semplice, perché non sai mai qual è il messaggio da poter dare. E io con grande umiltà ho pensato e ho sperato, che poi è successo questo, con grande successo, quello di poter organizzare una festa per i milanisti. Rivedere Van Basten in campo, credo che in quel momento lì, per tutta quella generazione che ha tifato il Milan e il Van Basten del pallone d'oro, sia stato molto molto emozionante. E ancora quando lo scrivevo e adesso nel parlare mi emoziona ancora tanto. Cosa credi e speri di aver lasciato quindi ai tuoi tifosi? Di aver raccontato qualcosa in più di me, di quello che sono. Ho cercato di valorizzare con grande generosità, come lo descrivo nella prima pagina, nella dedica a mio papà, con grande generosità. Penso di essere stato un calciatore con questo valore, con questa caratteristica. E spero di aver lasciato questo, con la generosità di essermi un po' aperto, ancora di più di alcuni, chiamiamoli tra virgoletti, segreti, perché poi ci sono degli aneddoti carini di quello che hai vissuto nello spogliatoio, che hai voluto dire, raccontare, per rendere partecipi anche loro di cosa vuol dire vivere uno spogliatoio, cosa vuol dire vivere dietro le quinte, cosa si fa in un gruppo, che poi è la stessa cosa che si faceva all'oratorio, quando ho iniziato. C'è qualcuno, qualche giocatore un po' più giovane in cui ti riconosci? O comunque di te stesso? E cosa gli diresti? Cosa gli consiglieresti? Io sono molto, nel senso, un po' restio ai paragoni, a quello che mi rivedo in qualcuno, perché poi alla fine tutti i centrocampisti centrali pensi sempre, lì giocavo io, e adesso può essere lui avere l'eredità mia e degli altri che venivano, che sono venuti dopo di me. Quindi è sempre difficile fare dei paragoni, mettere delle etichette che poi sono difficili da togliersi, anche perché tu parli di un giocatore che ha già lasciato il segno, e quindi è difficile ripetere quello che uno ha fatto, perché devi ricreare le condizioni, e secondo è perché io ho l'invidia nei loro confronti, perché possono scrivere ancora la storia di questo club, o comunque la loro storia personale, e quindi il mio augurio è quello di poter essere all'altezza della maglia, perché il Milan non è Demetrio Albertini, io ho vissuto una parte di quello che è la storia di questo club, che è meravigliosa, e se devo dire un giocatore che mi aspetto tanto, chiamiamolo così, che mi aspetto tanto perché ci credo è Tonali, Tonali che è stato appena preso dal Milan, ha delle caratteristiche molto simili, evolute, chiamiamole evolute perché il calcio adesso è cambiato, e mi auguro e gli auguro di poter anche lui poter scrivere delle pagine importanti di questo club. Un'altra domanda, facendo un po' riferimento alle attuali circostanze, come avresti gestito la situazione emergenza? Emergenza Covid? In che senso? Proprio più generale? Sì, anche un po' guardando gli ultimi avvenimenti, delle positività, cosa ne pensi al riguardo? Secondo te doveva continuarsi il tutto, oppure continuare con altre modalità? Come avresti gestito tu le cose? Io penso che, prima di tutto, sia difficile poter decidere in quella situazione, però posso anche sostenere che forse si è perso un po' di tempo, dal lockdown a oggi sono state fatte forse meno prevenzione di quella che si doveva fare, o che si poteva fare, questo assolutamente. Oggi stiamo vivendo in un momento veramente drammatico, forse è una parola un po' catastrofica, però in un momento molto delicato, sia per... Io penso molto ai miei ragazzi, ai miei figli, loro stanno vivendo qualcosa, delle restrizioni che forse non avrebbero dovuto vivere, la loro età, la prima cosa, e la seconda è che sicuramente, anche a livello economico, stiamo vivendo dei grossi momenti di difficoltà del paese e anche del mondo del calcio a questo punto. Vediamo tante... Parlo del mondo del calcio, parlo tante società dilettantistiche, molto molto in crisi, non solo dilettantistiche, ma anche quelle, io penso a quello. Penso ai ragazzi che per tanti mesi non hanno potuto praticare lo sport, che non possono praticare sport. Penso alla scuola, quindi alla difficoltà, visto che si va di pari passo, la scuola con quello che è il fattore organizzativo, credo che questo poteva essere affrontato in una maniera diversa. Non so come, non so come, perché non sono io che spetta a me quello che deve fare. Credo che... La cosa vera è un po' fare squadra, fare squadra perché in questo momento la priorità è la saluta di tutti noi. Cosa ti auguri per il calcio nel futuro? Prima di tutto con grande semplicità, spero si possa riaprire gli stadi con la gente, perché vorrebbe dire che siamo messi alle spalle questo momento un po' critico. Potrebbe ritornare a essere quel posto dove si possono condividere delle emozioni, del risultato, della prestazione, del gesto tecnico e quindi di conseguenza vorrebbe dire che saremmo tornati alla normalità. che si può fare